Sì, io voglio rimanere sul tappeto volante, voglio farlo soprattutto con Rita perché sono onesto, la prima volta che tu sei venuta qui e abbiamo parlato di tappeto volante io anche per una questione grafica avevo qualche ricordo ma un po' sbiadito allora ho iniziato sul web a trovare delle puntate, dei pezzi, ho iniziato a guardare tappeto volante a un certo punto mi imbatto in una puntata con mia Martini quindi mi fermo, la guardo con attenzione e a un certo punto tu inizi a cantare e la omaggi con Almeno tu nell'universo lei era vicino a me ma lo ricordo ancora e allora a un certo punto finisci di cantare, lei visibilmente emozionata e ti dedica alcune parole che io ho voluto trascrivere fedelmente e riportarti adesso perché dopo la tua esibizione di Almeno tu nell'universo lei dice sono molto emozionata Rita, mi fa una bellissima impressione ascoltare questa canzone che io amo molto fatta così bene per me è una gioia e poi se mi permette, lei dice sai ti voglio dedicare poi io una volta piccolo uomo perché è una canzone che in qualche modo ci lega poi lì si è interrotta la registrazione del filmato e sono rimasto con questo dubbio allora io ho sempre amato Mia Martini, ho ancora conservo tutti i 45 giri dagli anni 50 fino a quando ci sono stati e c'era e comprai Piccolo Uomo e il mio sogno era diventare una cantante brava come lei insomma lei è unica allora io glielo raccontai a Mia ho cancellato Mia Martini con un pellarello nero ho messo Piccolo Uomo per vedere come veniva scritto Rita Forte, l'impressione che cosa mi faceva avere un disco tutto per me la raccontai a Mia Martini e lei rise tanto, si divertì allora mi piacerebbe che i concorrenti di oggi Matteo e Cinzia ma anche gli opinionisti Generazione Z, Generazione Boomer facessero considerazioni e domande rivolgendosi a Mariano Sabatini, Alessandro Rispoli professor Beccaria collegato alla RAI di Torino Rita Forte, cominciamo con i concorrenti Matteo sì, allora il signor Sabatini in una recente intervista a Michele Guardi ci ha detto che la televisione di oggi, i programmi di oggi non inventano quasi nulla di nuovo e prendono spunto da programmi del passato quindi le voglio chiedere i programmi del passato prendevano spunto da quelli del passato ancora o venivano creati da zero? no, allora voi fate questa gara tra generazione come è Boomer Z e Boomer Rispoli faceva su questa rete, in questo orario un programma che si chiamava Argento e Oro cioè l'argento dei capelli e l'oro dell'esperienza dei personaggi come il professor Stefano Iacomuzzi se lo ricorda che parlava di letteratura? come no? e la professoressa Gregoli che era una professoressa di geografia umana portava sempre testimonianze importanti accademiche no, la televisione di quegli anni era la televisione che un po' fa Diaco fondata sull'intuizione anche il coraggio di proporre dei format che non siano già stati percorsi da altri quindi no, era la genialità di quei dirigenti perché quella, dico sempre, era una televisione non culturale ma una televisione certamente più colta fatta da persone realmente colte non so se ti ho risposto Matteo, poi per aggiungere altro perché poi è giusto non dare nulla per scontato sono ragazzi tra i 18 e i 25 anni queste cose non possono saperle la TV nasceva in quegli anni la RAI aveva un solo canale la prima rete nazionale poi ci fu il secondo canale poi negli anni 70 nacque il terzo canale chiaramente perché nascevano questi canali? nascevano questi canali perché poi non bisogna essere ipocriti perché ovviamente la RAI rispondeva diciamo ai vari impianti culturali che si respiravano nel paese no? e politici dal punto di vista politico, culturale quando nacque RAI 3 ad opera di Angelo Guglielmi Andrea Barbato, Sandro Cursi, Bruno Voglino si tentava di rispondere ad un pubblico che aveva dei gusti diversi dal punto di vista della formazione culturale rispetto a RAI 2 e RAI 1 è evidente che non c'era un precedente prima quindi Rispoli ha inventato dei programmi televisivi come l'ha inventato di Costanzo ma potrei dire Enzo Trapani certo Enzo Tortola Enzo Tortola Pippo Baudo, Mai Buongiorno, Corrado ma perché? perché erano i primi a sperimentare delle formule all'interno della tv pubblica e poi quando è nata Telemilano International poi diventata Fininvest, poi Mediaset Berlusconi che ha portato, questo gli va riconosciuto, un'iniezione di libertà psicologica nell'offerta televisiva di quegli anni mi sembra corretto questo riconoscerlo perché poi la storia va letta con equidistanza era una televisione più artigianale era una televisione più artigianale Beccaria è d'accordo con questa cultura? siamo nell'era industriale della televisione ma certo che sono d'accordo anzi io ho un'esperienza di parola mia e succedevano delle cose irrepetibili quasi incredibili se si raccontano oggi pensate che prima del telegiornale un bravissimo attore leggeva un brano di Manzoni o mettiamo una poesia di Leopardi ed io rapidamente nel giro di un minuto o due dovevo commentarla e poi cominciava la sigla del telegiornale voglio dire sono cose irrepetibili quasi incredibili il segreto era stato Rispoli riusciva a mischiare secondo l'antico precetto di un grande poeta latino che era Orazio di mischiare il piacevole e il dolce e quindi veniva fuori una una tv di livello culturale particolare e nello stesso tempo un entusiasmo e una popolarità che immediatamente si trasmettevano non soltanto al pubblico se ho ancora tempo a raccontarvi questo aneddoto ma non soltanto al pubblico ma anche trasmesso allo studio pensate che un cameraman che assisteva a Parlamia fu talmente preso da questi argomenti che cominciò a fare un vocabolario e ogni volta e ogni sera ci portava una pagina nuova perché la sera tornando a casa si dedicava a studiare la lingua italiana bellissimo questo racconto bellissimo tra l'altro non mi stupisce questo racconto perché il professor Bercaria da quando ha iniziato questa esperienza di Bella Ma dal 12 settembre dello scorso anno io questo programma lo cucino sì con la mia produzione o la redazione ma lo cucino per lo più con i tecnici di questo studio con gli ispettori di studio con i cameraman con i responsabili dell'audio della grafica cioè io qui ho delle qualità professionali eccellenti e vedere questi tecnici coinvolti nella cucina del programma è l'orgoglio di Bella Ma è l'orgoglio più grande guardi glielo ho sicuro perché vedere le facce felici dei cameraman che danno consigli insomma è una cosa bellissima è un clima irripetibile spero che continui anche nei prossimi anni allora Cinzia so che hai una domanda per Alessandro Rispoli io vorrei vorrei dire ad Alessandro che almeno a me personalmente ricordi papà non solo fisicamente ma anche nei modi in questa compostezza non so ma io lo vedo proprio molto composto è una cosa bellissima poi avrei una domanda per lui se riesco a farla anche a te poi la faccio volentieri secondo te ti do del tuo post sì c'è un erede esiste un erede del grande Luciano eh no dicevo prima Diaco fa una televisione coraggiosamente molto no non che sia l'erede però non fa format cioè fa delle trasmissioni pensate da lui e proposte al pubblico questo bisogna dirlo cioè non è non è piageria io non sono mai mai acquiescente però questo programma nasce dall'intuizione di Pierluigi Diaco poi io dico sempre che è un programma che sicuramente si potrebbe riproporre però bisognerebbe molto crederci perché quando l'abbiamo riproposto su Rai 3 nel 2002 2003 non andò come negli anni 80 è parola mia perché è un programma un gioiello è su Rai Play quindi se volete vederlo lo potete ritrovare lì io immagino nella conduzione di quel programma Fabio Fazio perché secondo me avrebbe la potenza e la popolarità per imporre un programma sulla lingua italiana allora abbiamo veramente pochi minuti Flavia prego per la generazione Z e la Sacchetti per la generazione Boomer prego buon pomeriggio io volevo chiedere a tutti e tre se comunque in questo periodo noi vediamo che la televisione è piena di programmi dove c'è una una povertà un po' lessicale e se questo secondo voi può essere anche un indice che porta poi noi ad abbassare il nostro livello e cosa si può fare effettivamente per tornare a quella televisione dal linguaggio garbato che era quella che faceva Rispoli questa domanda può essere rivolta esclusivamente al professor Beccaria Beccaria lei la risposta beh io penso che la tv possa fare moltissimo per la lingua italiana non si tratta di insegnare a parlare bene una bella lingua ma di parlare una lingua così variegata come la nostra noi abbiamo una delle lingue più ricche del mondo più colte ma nello stesso tempo più popolari quindi poi soprattutto in questo momento quando ci arrivano arrivano nel nostro paese migranti che non conoscono e sono veramente marginati che non conoscono la nostra lingua ecco tenere presenti anche loro sarebbe un servizio pubblico enorme definitivo importante Francesca allora io volevo rivolgere la domanda no non è una domanda in realtà è una constatazione cioè volevo dire ad Alessandro che io ho conosciuto Melba e volevo riportare Melba Ruffo non diamo nulla per scontato ci sono le ragazze che ha seguito che ha seguito diciamo ha fatto il tappeto volante insieme a Luciano Rispoli prima di Roberta ho conosciuto conosco bene anche Roberta ma insomma Melba in particolare e una cosa mi disse me lo ricordo come adesso con questo suo sorriso stupendo noi della generazione ce lo ricordiamo e disse avere lavorare con Luciano Rispoli a tappeto volante io mi sentivo trattata come una rosa bianca e questo volevo volevo che bel ricordo allora io ricordo invece a tutti i telespettatori che trovate nelle migliori librerie se non lo trovate lo ordinate Mariano Sabatini ma che belle parole Luciano Rispoli il fascino discreto della radio della tv Ballecchi editore do un abbraccio ad Alessandro e veramente grazie per essere stato con noi ciao Mariano grazie grazie mille grazie mille grazie mille